Due carabinieri feriti, un arresto e un minorenne denunciato, un altro uomo in fuga. E questo è il bilancio del rocambolesco inseguimento che nella tarda serata di ieri si è concluso a poche centinaia di metri dal casello autostradale di Avellino Est della 16 Napoli Canosa. La pattuglia in servizio notturno aveva intimato l'alta ad un'auto, una Peugeot 106, con targa straniera che procedeva a fare i spenti con tre persone a bordo. L'autista ha rallentato, poi con una manovra improvvisa si è dato alla fuga, imboccando contro mano la statale protetta da sparti traffico in direzione del casello autostradale. Dopo diversi tentativi, evitando il coinvolgimento di altre auto in transito, i carabinieri hanno speronato e bloccato l'auto. Nonostante fossero feriti, due carabinieri sono riusciti a fermare due persone, un 26enne che è stato arrestato e un minorenne denunciato all'autorità giudiziaria. Una terza persona è riuscita a darsi alla fuga a piedi, i due fermati residenti a Roma sono di nazionalità est europea. Nella loro auto sono stati trovati attrezzi da scasso e si ipotizza che prima di essere bloccati avessero tentato furti negli appartamenti tra Avellino e Atripalda, i due militari hanno riportato ferite guaribili in 7 e 30 giorni.